L'obiettivo è operare in squadra per raggiungere la sequenza successiva. Segna prima che il tempo scada. L'obiettivo è operare in squadra per raggiungere la sequenza successiva. L'obiettivo è operare in squadra per raggiungere la sequenza successiva. Sequenza successiva raggiunta. Tempo extra. Nuove prede disponibili. Noi. 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 Nuove prede disponibili. Sequenza successiva raggiunta. Tempo extra. Tempo extra. Nuove prede disponibili. Noi. 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 Noi, non. Seponza successiva raggiunta. Tempo extra. Nuove predi disponibili. Plurio omicidio doppio. Sequenza successiva raggiunta. Tempo extra. È ora della punizione. Nuove predi disponibili. Nuove predi disponibili. Sequenza uccisione sincronizzata raggiunta. Tempo extra. Nuove predi disponibili. Uccisione sincrona riuscita. Nuove predi disponibili. Nuove predi disponibili. Sequenza successiva raggiunta. Tempo extra. Dammi alla larga. Sequenza successiva raggiunta. Tempo extra. Nuove predi disponibili. Nuove predi disponibili. Nuove predi disponibili. Sequenza successiva raggiunta. Tempo extra. Nuove predi disponibili. 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 una lezione sequenza successiva raggiunta tempo extra sequenza successiva raggiunta tempo extra nuove prede disponibili nuove prede disponibili sequenza uccisione sincronizzata raggiunta tempo extra non 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 Stammi lontano! Oh... 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 Nuove trene disponibili. Uccisione sincrona riuscita. Nuove trene disponibili. Uccidi la preda extra. Sequenza successiva raggiunta. Tempo extra. Nuove trene disponibili. Sequenza successiva raggiunta. Tempo extra. Nuove trene disponibili. Uccidi la preda extra. Tepito extra. Tepito extra. Sequenza successiva raggiunta. Tempo extra. Nuove prede disponibili. 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 Prendi questo! Dammi lontano! Dammi lontano! Nuove prede disponibili. 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 Nuove molto femmine. Nuove prede disponibili. Uccidi la preda extra. Preda extra uccisa. Tempo extra. Ecco lì! Sequenza successiva raggiunta. Tempo extra. Nuove prede disponibili. Sequenza uccisione sincronizzata raggiunta. Tempo extra. Nuove prede disponibili. Uccisione sincrona riuscita. Nuove prede disponibili. Nuove útil. C'est quoi on rock? Successiva raggiunta. Tempo extra. Nuove prede disponibili. Sei qua! Plurio Micidio doppio. Nuove prede disponibili. Vila! Di qua! Ti hanno sturdito. Sono qui! Uccidi la preda extra. Passante ucciso. Penta extra uccisa. Tempo extra. Di qua! Prendi questo. Ti hanno sturdito. Nuove prede disponibili. Uccidi la preda extra. Nuove prede disponibili. Nuove prede disponibili. Nuove prede disponibili. Dunque. Sorpresa! È una belva! Nuove prese disponibili Uccidi la preda extra Preda extra uccisa Tempo extra Uccidiamolo Nuove prede disponibili Ultima sequenza Uccidi la preda finale Nuove prede disponibili Nuove prede disponibili La tua squadra ha completato con successo la sessione branco. La tua squadra ha completato con successo la tua squadra. La tua squadra ha completato con successo la tua squadra.